buongiorno stiamo andando in stazione e abbiamo fatto molto tardi si va a napole sempre se riusciamo a prendere il treno che praticamente parte fra dieci minuti se dobbiamo ancora fare i biglietti ok ce l'abbiamo fatta altrimenti sono le dieci e un quarto dovremmo arrivare le 11 siamo fermi da forse un quarto d'ora perché c'è troppa gente nel treno hanno dovuto far scendere delle persone arrivati a napoli con 21 minuti di ritardo stiamo andando a prendere la metro si siamo precisamente qui arriva 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 si inizia con una montanara è tipo piccolino ok come ok abbiamo preso lo spritz a un euro davvero buono e a me non piacciono gli spritz attimane fettatino poi dice che sono io quella che mangiata anche la nesi o quattro voglio ascoltano come ci siamo fermati così possiamo mangiare meglio ci sono alici, gamberetti, polipetti, anelletti merluzzetti, anelletti merluzzetti, pesce fritto, fritto pesce, fritto misto wow volevamo andare a prendere una pizza fritta da gisterina sorbillo ma c'era una fila troppo quindi siamo venuti qui a... si si qui dentro c'è una pizza la voglio scotta tantissimo com'è sta pizza? buonissima aaaaaaah stiamo andando al mare pazzo a letto scommettiamo che ci fermerà qualcuno a dire oh innamorato da cipriatù guarnamo innamorati e arriviamo a... te l'ho detto te l'ho detto che terrone sei ma grande fritto tutti i terrone, guarda che peschezza oh l'avevo detto, assurdo sono in una fontanella scusate usciate ci abbiamo bagnati, adesso state freschi? continuate a seguirci sul nostro canale siamo qui ci siamo seduti qui no 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 come siamo? maronna, papà, nutella e crema buono buono napoli, napoli napoli porta napoli Stiamo andando al Mcdonald. Ok, ci hanno detto che qui non si possono fare i video. Abbiamo preso due McFlurry e addio. Come si chiama il Castello di Napoli? Castello di Napoli. Comunque è tiravente ed è una cosa fantastica perché stavamo con il... come si chiama? Con il ventaglio da fare così per tre ore. No, fa di nuovo caldo. Fantastico! È caldissimo! C'è un vento caldo! Prima di prendere il treno siamo fermati a fare una piccola pausa qui. Stavamo perdendo il treno. Abbiamo corso tantissimo. Ce l'abbiamo fatta. Stavamo perdendo il treno.